E' rimasta in evasa, apporto donato a chi scrive presso il Cenacolo Umanità e Movimento attraverso lo strumento Domenico P. La domanda circa è il tempo in cui in Svizzera è stata prelevata la moneta e rimasta in evasa, a differenza di altre volte in cui la guida fisica Enzo ha risposto a me e ad altri partecipanti. E' rimasta in evasa, apporto donato a chi scrive presso il Cenacolo Umanità e Movimento, Grazie a tutti.